Il Comune di Salerno nel mese di maggio ha approvato una delibera in Consiglio Comunale che ha dato la possibilità di poter pagare la prima rata della tassi nel mese di giugno. Questo è stato fatto anche con un'attenda analisi per quanto riguarda quelle che potevano essere le difficoltà delle famiglie salernitane, tanto è vero che oggi noi ci troviamo a commentare delle attività che sono quelle di un pagamento ad ottobre che i cittadini salernitani non dovranno effettuare in quanto, come dicevo, è già stato fatto a giugno. Resta ovviamente il saldo per quanto concerne la tassi nel mese di dicembre, quando fu fatta questa delibera in Consiglio Comunale fumo attaccati in maniera strumentale dall'opposizione perché pensavano che noi avessimo avuto un'attività per reperire immediatamente somme di denaro per le casse comunali. Non era così, lo dimostra il fatto di oggi, era per dare possibilità alle famiglie salernitane di dilazionare il più possibile questa tassa per quanto concerne i pagamenti.